Ci troviamo presso l'Istituto Adriano Olivetti Leadership di Ivrea. Questo istituto è nato nel 2020 su iniziativa di Stefano Zordan e di Silvia Manducchi, che sono i fondatori. Siamo nel sito, diciamo, UNESCO Olivettiano, dove c'erano i servizi sociali Olivetti. In particolar modo, vedete, questi sono gli scaffali originali della Biblioteca Olivetti. E qua c'è la foto di mio padre, che è stato uno degli ultimi direttori del Centro Culturale Bibliotecario di Olivettiano di Ivrea. Capite bene che quando sono entrata in questi uffici, un pezzo di cuore l'ho lasciato, perché ho visto che c'erano ancora gli scaffali originali, che mi ricordavo quando venivo a trovare mio papà in biblioteca.